Paolo Pradelli, con il nuovo DPCM possiamo dire che siamo tornati dove eravamo tre mesi fa? Di fatto sì, siamo tornati a maggio perché nonostante siano state fatte passare in secondo piano le restrizioni sulle cerimonie però nel nostro settore sono molto impattanti sia a livello di ristorazione che di tutti i servizi che ci girano intorno e oltretutto con un no senso di logica in questa norma perché di fatto io in un ristorante posso mettere 200 persone alla carta ma su una cerimonia 30 persone quindi non ha assolutamente senso fare una norma così senza un minimo di di merito parametrale relativo ai metri quadri delle strutture. La prima tappa verso il non ritorno, il punto di non ritorno era stata inizio settembre con l'ordinanza questa volta regionale. Sì, quello ci ha diciamo aiutato a scegliere il giorno di chiusura delle strutture ricettive perché quell'ordinanza ha portato in tre giorni a cancellazione di gruppi e turisti perché con quell'incertezza hanno preferito annullare le vacanze. Quella sul tampone obbligatorio. Esatto, poi dopo è stato tutto annullato però in quella settimana di norma ha accelerato la chiusura. Poi quest'ulteriore DCPM diciamo che è stata una batosta anche perché nessuno ha tenuto conto del fatto che se uno ha una cerimonia programmata da martedì ai prossimi 15 giorni molta parte dell'organizzazione è già fatta, quindi acquisti di materie prime piuttosto che preparazione della struttura e questo logicamente ancora una volta ci troviamo a dover gestire delle norme che vengono fatte dall'oggi al domani, così. Per cerimonie intendiamo tutto? Battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, feste di laurea, cene aziendali, qualunque cosa. Per i quali c'è il limite di 30 persone? 30 persone, esattamente. Ovvero impossibile? Impossibile anche perché se fai un matrimonio con 27-28 persone almeno che non triplichi i prezzi sei in perdita, quindi di fatto non avrebbe più senso farlo. Quindi il risultato finale è? Che anche questi matrimoni si vanno a raggiungere all'elenco dei matrimoni spostati all'anno prossimo. E quindi chiusura della... Assolutamente sì, con le persone oltretutto ancora assunte perché comunque erano state fatte previsioni di lavoro fino alla fine di novembre, quindi col personale assunto fino alla fine di novembre che adesso ce l'ho lì e non si sa cosa fare perché non lo possiamo neanche licenziare.